Imposta consienza. Dentro per Lavezzi, posizione regolare. Lavezzi in area di rigore. Lavezzi, il cross basso. Attenzione, Campagnaro, Groté. Campagnaro, il Napoli in vantaggio. Gol di Campagnaro che sfrutta un taglio per... Amsic ancora in mezzo. 2-1 del Napoli. Campagnaro, Campagnaro riporta il Napoli davanti al 22esimo e si riprende la partita il Napoli con l'argentino. ...vedono da queste parti. Attaccamento alla maglia, personalità e quel coraggio che serve per poter lanciare l'assalto alle potenze del nord. Mazzari avrà fatto gli scongiuri dopo aver appreso che dal 2004 in avanti le squadre che stanno nel gruppo di... Ecco il cross del Napoli. Ancora un traversone, la deviazione ed il redde. Si gonfio la rete, si gonfio la rete, si gonfio la rete, si gonfio la rete, si gonfio la rete. Ugo Boss, Campagnaro, ha portato il Napoli...